Ok, rieccoci qua. Vediamo che succede se riesco a lanciargli la candela in faccia. Averlo rigiocato è stato brutto. Cambia ogni tanto il giochino qua. Le cose si spostano. Non sono mai nello stesso punto a volte. Le batterie, per esempio... Ups, potete sbagliare. She won't let you leave. Lo so che non mi vuole lasciare andare. Lo so, lo so. Ci vuole troppo bene. Ok, candela. Sono... Eh, va bene, ho capito. Ok, went to... Ok. Left mouse button vuol dire. LMB. Ok, accendino. Stiamo scherzando. Che cavolo è l'accendino? Mi tocca cercare dappertutto ora. Che cavolo è l'accendino? Ah! Vedi? Che ho detto? Si spostano le cose qua. Allora. Sì, l'accendino di Jack Daniels. Accendiamo. Ma che cavolo non... Allora. Gli do lanciare la candela in faccia. Ma proprio con... Spero di non rispaventarmi di nuovo. Tanto so cosa succede. Appare all'improvviso. Ma non so dove. Ma non so dove. Non so dove. Non so in che direzione. È molto buio. Non vedo. Non vedo! Non vedo! Dov'è? Sta bruciando l'ufficio! Acqua. Acqua. Ok, vabbè. Non fa niente. Bruciamo... L'ho bruciata. L'ho bruciata, amici. I need to put this fire up. Eh, vabbè. Eh, no. Davvero. Aspetta, l'estintore, l'estintore, l'estintore. Dove ho visto un estintore? L'estintore... Eh... Sì, ho capito. Ma a me serve un estintore. Ascol. Vuoi acqua? Qua c'è acqua. Ho detto qua c'è acqua. L'acqua fredda. Ma che cavolo la spengo l'acqua? Forse mi serve un bicchiere. Sì, ho capito, amico. Forse serve un bicchiere o un... Ah, io... Prima che io muoio di fuoco. Eh, prima che muoio bruciato. Niente. Oh, qua ci sono delle tazze. Che non posso usare. Ma questo qua rimane incastrato dappertutto. Con la sua testa. È il suo culo. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. No, l'estintore è all'altra parte. Cavolo. Eh, che cavolo. Ti ho aperto già cinque volte a te. Chiubiti. Allora, mi serve acqua. Acqua lo posso prendere anche dal gabinetto. In un certo modo si può trasportare. No. No. È un po' acqua per me. No, funziona. Ok. Non ho idea come cavolo spegnere questo fuoco. A parte che posso usare questo. Ma... Non funziona. Poi c'è un bicchierino piccolo a spegnere quel fuoco lì. Voglio vedere. Di sicuro è apparso da qualche parte un bicchiere. Di sicuro non in cucina. Perché? Perché i bicchieri non si mettono in cucina, è chiaro. Ok. Forse dovrei usare la mia tazza. E se tu non guardarmi così, scemo. Il tuo lavoro l'hai già fatto. Puoi anche sparire. Sto ballando con la gamba perché sono un po' nervosetto. Sono un po' sotto tensione. Mi serve acqua. Robert, hai forse un'altra sorpresa per me? Vediamo. Non posso prendere questa tazza. Vediamo. Ogni tanto appaiono delle cose dal tuo armadio qua. Dei tuoi cassonetti. Se mai forse è apparso anche un bicchiere. Per me tu non... Per me tu sei nascosto qua da qualche parte, Robert. E metti queste cose qua. E fai fare a me tipo il lavoro che dovremmo fare con Spassers. Aspetta, al momento giusto esci fuori e fai... Dai, è una sorpresa. Lasciamo una cosa qua. La tazza non la posso usare. La radio no. Non mi sembra giusto. Ascolto. Che cos'è? Un altro di quei momenti in cui mi devo arrabbiare molto? Uh, aspetta. Oh, 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 oh. Ho capito, hai capito. Oh, ho capito, vuoi dire? Wow, non vedo niente. spegniamo il fuoco ma dai sto andando giusto si ma come cavolo lo tiene tipo un come il suo piccolo pisellino proprio tutto con fragilità che si può rompere muori 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 sto spegnendo un fuoco o sto sconfiando un palluccino che cosa cavolo ah sta diventando piccolo finito e ora passa a uscire sto facendo di nuovo facce strane ho spento il fuoco what? ma che cavolo? fica sta cosa posso aprire porte attraverso i muri ah no si però non sono riuscito a sconfiggere un fantasma senza usare la luce questo computer ancora non funziona ok ho spento il fuoco ho ucciso la nonna che cosa che cosa dovrei fare ancora un indizio un qualcosa devo ritornare qua non posso fare niente oh forse che cavolo è stato ah si è bloccato per un attimo forse devo ritornare nel mio ufficio però questa musica non promette molto eh questo rumore stra brutto che rimbomba molto forse è uscito un altro infatti o è ancora lo stesso si è ancora quello bla 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 il fuoco il suo punto debole si c'è qualcosa qua no non c'è niente poi no no ancora lui ah no forse posso uscire qua c'è scritto ancora hello kitty oh un biglietto grande Robert sei riuscito al tuo nascondiglio I'm opening the door be safe my friend ok grazie thank you Robert ma col cavolo non siamo ancora amici anzi non lo siamo più si aspetta scusa oh c'è ah c'è di nuovo luce da per tutto posso uscire me ne posso andare a casa finalmente sono fuori da questo posto ho ucciso la nonna e non sono più amico di Robert perché Robert è uno stronzo non fidarti di Robert fail scusa credevo che mi hai aperto la porta che razza di amico per me ha chiamato adesso suo nonno e questo sarà di sicuro il secondo gioco di One Late Night che uscirà suo nonno ma perché si mette a chiamare i suoi nonni ma io non lo so una nonna che che fa stalking in un modo assurdo chissà il nonno che cavolo ha combinato ah e Robert dimmelo che hai aperto quella porta boh se mi dici l'uscita io penso dove c'è scritto exit e non l'entrata principale beh no fuck you no mi licenzio mi licenzio non torno più in questo ufficio e che cavolo c'è quello scemo che chiama i suoi nonni e io mi devo subire tutto grande quando è quando è che fate il secondo pezzo che quando chiama il suo nonno che non vedo l'ora ok questo era One Late Night ce l'ho fatta non devo mai più giocarlo mai più che devo dire la grafica non è male una storia interessante un tizio che richiama in vita cioè in vita che chiama il fantasma della sua nonna la sua nonna non ha fatto neanche cose buone cioè perché si mette a chiamare gli spiriti dei nonni maligni eeeh e niente non è male come gioco davvero davvero mi è piaciuto mi è piaciuto mi ha spaventato molto ma molto mi faceva sentire neanche per un secondo sicuro questo cavolo di gioco questo è tutto One Late Night e ciao